Un grande bacio, un forte abbraccio a tutte le donne che lottano contro questa malattia. Vorrei ringraziare la Comen per i fondi per le terapie integrate e un ringraziamento di cuore va il professor Gianluca Franceschini per la sua sensibilità, il suo impegno costante verso le donne malate e il ringraziamento più importante però è per voi che lottate ogni giorno, donne rosa, donne speciali e buona visione col figlio.